Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPI lì dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. In A15 sempre a causa di lavori possibili disagio alla circolazione tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni, possibili disagio alla circolazione per lavori anche sulle raccordose in Firenze tra San Cachan e l'allacciamento con la Uno. Sulla statale Trebis Tiberina invece chiusi a causa di lavori gli svincoli di Balsa Vignone e San Sepolcro Sud in direzione Ravenna. Sulla statale 67 bis Tosco Romagnola da domani fino al 31 ottobre rimarrà chiuso il tratto dal chilometro 14-950 al chilometro 15-550 nel comune di Colle Salvetti. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!